Maria Benedetta, tu sei così bella che Lucifero cede di fronte a te. Maria, la nostra amatissima Madonna, viene descritta in questa stupenda preghiera che sembra essere una vera poesia, come un'opera d'arte che il Signore ha creato e ci ha donato affinché noi tutti ci convertissimo attraverso suo figlio Gesù. Questa preghiera è stata scritta da San Venansio Fortunato ed è davvero stupenda. Lo splendore della Madonna non si può descrivere e anche le veggenti che dicono di averla vista hanno spesso raccontato che è così meravigliosa che non si può descrivere la sua bellezza fisica. Rivolgiamoci a questa dolcissima Mamma Divina e preghiamo affinché ci ascolti. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Tu porti un nome onorato o Maria Benedetta in tutti i tempi, opera d'arte che loda il nobile artefice. Dolce fanciulla a causa del prezioso angelico messaggio hai doni di bellezza superiori a quelli di tutti gli uomini. Più vermiglia delle rose e superiore ai gigli nel candore, tu sei il nuovo fiore della terra che il cielo coltiva dall'alto. Cristallo, ambra, oro, porpora per la candida, smeraldo. Dove giunge il fulgore della tua forma tutti i metalli svaniscono. La neve è vinta dal tuo candore, il sole dà la bellezza dei tuoi capelli e i suoi raggi impallidiscono, o vergine, di fronte alla tua bellezza. Il rubino si spegne e l'ardente lucifero cede di fronte a te. In ogni circostanza sei superiore alle meteore. Amen. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Nel nome del Padre e del Figlio e dillo Spirito Santo. Amen. Grazie. Grazie. Grazie.